buongiorno ragazzi siete pronti a seguirmi per imparare anche voi a sentirvi al 100% iniziamo con un riscaldamento buonissimo apri 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 aumentiamo il ritmo cucchiaino stendiamo fino al cielo fino al cielo sentirsi al cento per cento è facile come fare prima collezione con yogurt si mille ad alta digibilità perché senza lattosio entriamo nel vivo dell'esercizio per sentirvi al cento per cento anche al lavoro con yoga alla greca senza lattosio azimil pronti? 1 2 3 e giva e giva e gira questo esercizio è mitico facile da digerire senza grassi e ora passiamo allo stretching per un relax al cento per cento e finiamo questo allenamento sempre in leggerezza con il latte azimil biologico senza lattosio allunga ormai il sentirsi al cento per cento non ha più segreti continuate a esercitarvi e sentirvi leggeri con i prodotti zemil facili da digerire perché senza lattosio e Bye.